Oggi è stata conferita, 18 ottobre 2020, è stata conferita la cittadinanza onoraria a Don Andrea Lirangi. Don Andrea Lirangi è stato ed è il nostro parroco da ormai nove anni, una figura arrivata nel nostro territorio in punta dei piedi, un giovane che poi è diventato un grande parroco che ha fatto tantissimo per il nostro territorio. Il Consiglio Comunale ha inteso conferire quella che è la più alta onoreficenza che può essere concessa ad una persona, tra l'altro che da quando è arrivata nel nostro territorio non ha mai perso la cittadinanza luzese, lui è stato presente sempre nel nostro territorio rimanendo legato alle sue origini, ecco perché sembra un segno del destino che poi il passo successivo che fa da Scigliano avviene proprio verso Luzzi. Il Consiglio Comunale l'intera comunità ha voluto proprio con questo riconoscere un'attività che da anni incessante verso i beni patrimoniali inteso come monumenti della Chiesa e del territorio sono stati fatti, sono stati fatti dei lavori su tutte le Chiese. Andiamo dall'impianto di illuminazione fino al restauro delle facciate, delle coperture e di tutto ciò che sta all'interno della Chiesa stessa. Don Andrea lascerà un segno, ha lasciato un segno nella storia di Scigliano e proprio per questo motivo il Consiglio Comunale odierno ha voluto all'unanimità conferire la cittadinanza onoraria a quello che rimarrà da oggi in poi il nostro cittadino onorario Don Andrea Lirangi.